Siamo tutti in tema italiani e allora a questo punto, Salomino e Lucio, che vogliamo dire? Lo vogliamo dire anche in tedesco? Ah, in tedesco, sì, sì. Dillo, dillo. Ma adesso chiediamo a dire un dieci, lasciamo a noi uno da due titoli singh, come si chiama, lo dici? Domenico Gian Giordano. Domenico Gian Giordano. Gian 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 Gian. Io sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui. Nei amache hao i cinesi, sono qui, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so. Nei amache ciumciui, 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 ciumciui. Hai messo i spasmos. Vedo già pronto il nostro Domenico nella nostra bellissima piattaforma della nostra piazza, si sta truccando, si sta mettendo il rossetto, le calze e maglie. Il reggiseno se l'è messo, Domenico? Sei maschio o non c'è bisogno? Ah, vero, io pensavo che no. Ma coppola? Ci siamo, ci siamo sbagliati, ci siamo sbagliati. Comunque, ti sei sbagliato. Sì, sono vero. Facciamo la moviola. E allora, tutta Italia, questa sera, la nostra bellissima piazza, Domenico ancora con un'altra delle sue bellissime canzoni. Musica? Musica? Musica! Musica! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.